L'ho sentito molto fisicamente nel corpo, c'è ancora un'energia che sento dentro proprio di un risveglio, come se avessi bisogno di essere svegliata e mi sembra anche di guardandomi intorno di vedere diversamente le cose, cioè molto più chiare, molto più luminose. C'è stato un vero e proprio risveglio oggi che mi fa molto piacere, mi sento ricaricata ed energica e grazie per questo regalo, grazie.